Ciao a tutti, da Davide di Audiocostruzioni. Quest'oggi voglio presentarvi una cosa un po' particolare, che diciamo che è sempre nel campo dell'iFi, però è leggermente diversa. Parliamo dell'ultimo nato della Arkham, Arkham Music Boost, praticamente è un involucro per l'iPhone 6, che ci permette di ascoltare molto meglio la musica in cuffia, perché ha un DAC di buonissima qualità all'interno, ma non solo, di avere una carica più che raddoppiata per la durata della nostra batteria. Ecco, è un prodotto molto molto interessante, purtroppo costicchia, perché costa 190€ ad oggi nel 2016. Voi sapete che anche un normale cover con batteria aumentata costa sempre molto, tranne quelle cinesi che però, almeno i miei figli che sono appassionati di questi acquisti un po' strani, ne comprano parecchie, non ce n'è neanche uno che funziona, quelli buoni costano. Qui abbiamo le due cose, e ho fatto un po' di prove con le mie cuffie e l'Audiotecnica, che sono di buona qualità, e veramente un miglioramento c'è stato. Direi anche abbastanza marcato, anche con la compressione che impone Apple quando si caricano i file sul telefonino, però il risultato tutto sommato è di ottima qualità. A differenza dell'amplificatore che c'è per cuffia interno nell'iPhone, questo è molto meno sbrodolone, il basso è molto più controllato e la ricostruzione è molto migliore. Ecco, ora vi faccio vedere come funziona. Praticamente potete lasciare la cover sopra se avete la protezione, non fa assolutamente niente, però dovete tirare via il guscio. Si infila da sopra, ok, ecco, ecco l'ho infilato dentro, no, e con questo tasto qua praticamente io gli do l'impulso o di caricarmi il telefono, ecco vedete che va in carica, quando ne ho bisogno, spingono un'altra volta e il telefono funziona normalmente con la sua carica, quindi aumenta le prove dicono almeno il 120% della durata. Ecco, è un bel guscio, protegge dagli urti, è chiaro l'iPhone diventa un pochino più grandino, ecco, è leggermente più scomodo, però insomma. Nella confezione troviamo il suo caricabatteria, no, che è una presa di quelle che mi pare che si chiami micro USB, dall'altra parte abbiamo la USB classica che possiamo andare a inserire nel nostro caricabatteria originale dell'iPhone, adesso questo è uno vecchio, comunque sono tutti uguali, no, e mentre che andiamo a caricare il nostro, la nostra cover, carichiamo anche il telefonino. Ecco, è un prodottino molto molto interessante, può essere anche adatto come regalo, nella confezione, la confezione è molto semplice, troviamo le istruzioni, ma sono veramente gnocche, diciamo così. Insomma, è un prodotto che può essere una buona idea. Un saluto da Davide di Audiocostruzioni.